La Camera di Commercio di Cosenza ha ospitato la 22esima edizione della Convention Nazionale dei Conservatori del Registro delle Imprese. Nella sala intitolata a Pietro Mancini hanno relazionato tra gli altri il segretario generale di Union Camere Giuseppe Tripoli ed il direttore generale di Infocamere Paolo Ghezzi. L'importanza della gestione del registro per la trasparenza degli operatori economici è stata sottolineata dall'intervento di Michele Delprete, magistrato della Procura Nazionale Antimafia, fondamentali incrociare i dati per individuare gli illeciti flussi finanziari. Il nuovo registro è un registro che prevede la possibilità di individuare anche il cosiddetto imprenditore tra virgolette nascosto, cioè colui che svolge e nei confronti dei quali si svolge effettivamente l'attività di imprese. Quello è un elemento di grande novità che nelle attività di contrasto al riciclaggio e all'attività di imprese illegale ovviamente porterà dei grandi risultati e che prevede la collaborazione dei conservatori registri delle imprese che hanno l'obbligo di inserire e di individuare il titolare effettivo delle imprese e eventualmente comunicarlo alle autorità inquirenti. Nella seconda delle due giornate è intervenuto attraverso un videomessaggio dedicato anche il presidente dell'autorità anticovulsione Raffaele Cantone. La digitalizzazione facilita la gestione delle informazioni ed anche il lavoro quotidiano delle imprese. L'impresa si può direttamente collegare, farsi la sua professura ma trovare tutto il suo pacchetto digitale, cioè quindi quello che c'è il comune per la sua licenza, quello che c'è l'ASL, tutto il pacchetto che sta all'interno. Questo significa legalità, significa trasparenza ma significa anche un po' la burocrazia che si mette da parte. Salvatore Bruno per la CNews24 Ciao!